tra le tante preghiere che si possono rivolgere alla Madonna di Montichiari c'è la novena a Maria Rosa Mistica che si prega per 12 giorni per scoprire la storia di Maria Rosa Mistica andate al link in descrizione iniziamo insieme la preghiera vergine immacolata madre di grazia Rosa Mistica a onore del tuo divin figlio ci prostriamo davanti a te per implorare da Dio misericordia non per i nostri meriti ma per la bontà del tuo cuore materno ti chiediamo aiuti e grazie sicuri che ci aiuterai Ave Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte amen madre di Gesù regina del santo rosario e madre della chiesa corpo mistico di Cristo impetriamo per il mondo riarso dalle discordie il dono dell'unità e della pace e della pace e tutte quelle grazie che possano convertire noi e i cuori di tanti figli Ave Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte amen rosa mistica regina degli apostoli fa fiorire attorno agli altari eucaristici numerose vocazioni religiose e sacerdotali che con la santità della vita e lo zelo ardente per le anime possano estendere il regno del tuo Gesù in tutto il mondo ricolma pure noi dei tuoi favori celesti salve regina madre di misericordia vita dolcizza speranza nostra salve a te ricorriamo noi esuli figli di Eva a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime orsù dunque avvocata nostra rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio Gesù il frutto benedetto del tuo seno o clemente o pia o dolce e vergine Maria rosa mistica madre della chiesa prega per noi nel nome del padre del figlio e dello spirito santo amen il signore tocchi i nostri cuori e ci doni tanta pace io vi saluto vi abbraccio la vostra piccola matita del cuore